Web crawler, ragni, spider, insomma, tutte delle robe un po' strane. Se hai aperto questo video è perché hai già sentito parlare di queste cose e non ci hai capito il tubo. Oggi cerchiamo di spiegare un po' cosa sono i web crawler, perché ci servono e togliamo tutto questo alone di mistero, di pesantezza, di paura, che non c'è niente di cui spaventarsi, anzi. Ciao a tutti bomberoni e bomberone, come state? Ben ritrovati in un nuovo video di Semrush Italia, ben ritrovati con me, sono Chiara Clemente, ormai mi dovreste conoscere, ma se non mi conoscete, ciao, molto piacere di conoscervi. Oggi parliamo, come avete visto dall'intro, di web crawler. Che cosa sono, perché ci servono e sostanzialmente dove li possiamo trovare e a che cosa servono, insomma, perché li dobbiamo conoscere. Per quanto, come abbiamo detto nell'intro, possano sembrare un po' spaventosi, in realtà i web crawler sono una delle cose più importanti che ci sono su internet, perché sono dei lavoratori instancabili del World Wide Web e sono tutto quello che ci serve per farci trovare dai nostri potenziali utenti, clienti, lettori, osservatori, eccetera, eccetera. Allora, facciamo un esempio al volo per farvi capire subitissimo di che cosa si tratta. Internet è una biblioteca, gigantesca, immensa, lo sappiamo. I web crawler sono i bibliotecari, cioè ogni giorno scansionano tutti i contenuti che vengono creati online e dicono ai motori di ricerca, e guarda, io ho trovato questo, che parla di questo, e poi collegato a questo, insomma, fanno tutto un intreccio di dati per far capire ai motori di ricerca che cosa viene messo su internet e soprattutto per far capire ai motori di ricerca che cosa mostrare nella pagina dei risultati. Quando infatti tutti i libri di una biblioteca sono archiviati e indicizzati, il lettore entra, dice al bibliotecario, ciao, io ho bisogno di questo libro, e il bibliotecario gli dice, eccolo qua. Ed è la stessa cosa che funziona con i nostri contenuti. Ecco, arriva il potenziale lettore che arriva sul tuo sito, sta cercando quella specifica informazione, e boom, il web crawler lo dice ai motori di ricerca che gli fanno vedere esattamente quella cosa che sta cercando, che guarda caso, è proprio sul tuo sito. Prima di parlare però di come effettivamente i web crawler influiscono sul posizionamento del tuo sito e anche sulle sue performance, andiamo a capire un pochettino meglio come funzionano. Che cos'è un web crawler e come funziona? Un web crawler è un piccolo pezzo di codice che i motori di ricerca inviano per setacciare e scoprire contenuti nuovi e aggiornati sul web. Non stiamo parlando semplicemente del nome del dominio, stiamo parlando di qualsiasi cosa all'interno di un dominio, una foto, un video, un link, una recensione, ogni singola pagina e ogni singola riga. I web crawler infatti scansionano tutto quello che vedono e fanno proprio quello che farebbe una persona. Va su un sito, poi ci vede un link, ci clicca sopra, apre una pagina di categoria, poi ne apre un'altra, poi trova una pagina prodotta e apre quella, segue più o meno lo stesso percorso che seguirebbe in teoria una persona che atterra sul tuo sito. Tutti questi dati poi vengono riportati e archiviati all'interno dei server dei motori di ricerca e tutte queste informazioni vengono indicizzate e prioritizzate in base alle parole chiave e alla rilevanza dei contenuti. Ed è proprio qui che entra in gioco la SEO. Google esamina infatti ogni singola volta le parole chiave più pertinenti e i contenuti più rilevanti per mostrare proprio i contenuti giusti a chiunque li stia cercando e quindi cercando di far vedere ad esempio il tuo magico, fantastico, bellissimo sito per esattamente le parole chiave per cui tu stai cercando di posizionare. Tra l'altro se te lo stessi chiedendo ma quanti dati sono, giusto perché tu lo sappia sono centinaia di migliaia di miliardi, sono veramente veramente tanti, e l'intero database di Google pesa più di 100 miliardi di petabyte, cioè che non metto neanche gli zeri a schermo perché non ci stanno nello schermo, giusto per farvi capire. Perché i web crawler sono importanti per le prestazioni del tuo sito web? La risposta alla domanda in realtà è semplicissima. Google non può indicizzare il tuo sito? Non può posizionarlo. Fine. Fine del video tra... No, non è vero. Non puoi indicizzarlo, non puoi posizionarlo, la gente non ti trova e tutto quello che tu fai serve a zero. Quindi è molto, molto importante. Ci sono diversi motivi per cui questa cosa potrebbe succedere. Vediamoli insieme. Il tuo sito è nuovo. Se il tuo sito è nuovo di Zecca, i web crawler potrebbero non avere ancora avuto il tempo di trovarti. Per velocizzarlo devi inviare immediatamente la mappa del tuo sito, la tua sitemap, ai motori di ricerca, tramite servizi di Google come Search Console per esempio. La navigazione del tuo sito è difficile da seguire. Se le tue pagine non sono collegate correttamente, è difficile per i crawler fare il loro lavoro. Ricordati che si spostano nel tuo sito web seguendo i tuoi link. Se i collegamenti sono interrotti o sbagliati, il bot non avrà nessun posto dove andare. Stai bloccando i web crawler. Potresti avere un codice sul tuo sito che impedisce deliberatamente ai crawler di atterrare sul tuo sito, senza nemmeno accorgertene. A volte gli sviluppatori aggiungono del codice per bloccare i crawler perché vogliono che determinate pagine siano private. Controlla il tuo file robots.txt, una directory principale del tuo dominio che ti consente di controllare quali pagine bloccare e quali mantenere pubbliche e scansionabili. Il tuo sito web è penalizzato. Se sei stato coinvolto in qualsiasi tipo di tattica spam, come l'acquisto di link o il riempimento di parole chiave, i motori di ricerca possono deindicizzare. Per evitare questi problemi e brillare nella SERP, esegui la scansione del tuo sito per assicurarti che siano privi di errori e che sia pronto affinché i web crawler facciano il proprio lavoro. Come si può fare questa cosa? Si può fare molto tranquillamente con Site Audit di Semrush. E adesso vi faccio vedere come. Come scansionare il tuo sito web con Semrush. Site Audit è uno strumento utile che esegue la scansione del tuo sito web per trovare eventuali problemi o segnali d'allarme che possano incidere negativamente sulla sua salute. Questo strumento è anche un web crawler, lo chiamiamo infatti Semrushbot, che esegue la scansione del tuo sito verificando più di 140 fattori tecnici che potrebbero avere un impatto negativo sulle tue prestazioni. Innanzitutto, collega il tuo sito web allo strumento, regola le impostazioni principali e premi il pulsante avvia verifica del sito. Entro pochi minuti riceverai immediatamente un rapporto completo sullo stato generale del tuo sito, oltre a un elenco di eventuali errori e avvisi che potresti avere. Mi raccomando, se vediamo rosso niente panico, gli errori sono suddivisi per priorità, quindi ci sono quelli rossi che sono senza dubbio quelli da guardare immediatamente che dobbiamo risolvere il prima possibile, e poi ci sono quelli arancioni e quelli azzurri che sì, vanno sistemati, ma senza così tanta fretta e soprattutto senza panico. Sostanzialmente i web crawler sono nostri amici, e anzi dobbiamo accettarli, amarli, farli venire sul nostro sito e cercare di spianargli la strada per fare in modo che abbiano il lavoro più semplice possibile, perché più informazioni raccolgono, più informazioni possono dare ai motori di ricerca e meglio saremo indicizzati e di conseguenza posizionati. E soprattutto, mi raccomando, andare a controllare subito che il nostro sito sia in perfetta salute, in modo che i crawler possano farci una passeggiata di quelle proprio infinite, divertirsi, scansionare, come se non ci fosse un domani. Detto questo, io in realtà non ho molto altro da aggiungere, andate e crollate tutti, felicemente, e mi auguro che questo video vi sia stato il più utile possibile per avere un pochettino di chiarezza in più rispetto a questo aspetto dell'internet, che è magari un po' confuso, un po' misterioso, un po' tenebroso, e soprattutto che smettiamo di avere paura di questi crawler, perché sono in realtà dei grandissimi alleati per i nostri posizionamenti e per la nostra visibilità online. Se avete qualsiasi domanda, osservazione, dubbio o chiosa, mi trovate come sempre nella sezione dei commenti, sono qui che vi aspetto, andate a guardarvi il vostro sito su Site Audit, divertitevi, crollate e fatevi crollare da tutti i crawler, basta, non dico più niente. Ci vediamo al prossimo video, come sempre, se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi che lo sapete, che ci sono video che vi possono aiutare a fare un sacco di cose, e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao!